Festa grande per la Miternina, mentre è notte fonda per il Giulianova che a fine gara viene tenuta al rapporto dai suoi tifosi che si lamentano della sconfitta. I ragazzi di Mister Angelone vincono 3-0 con pieno merito contro i giallorossi adriatici che tirano alla porta avversaria una sola volta. Probabilmente il cambio di allenatore da Giorgini a Gelsi ha solo peggiorato la situazione. Per la cronaca, subito pericolosi i padroni di casa al sesto. Petrone serve in area terriaca che da buona posizione tira alto. Dopo sei minuti la Miternina tiene un calcio di rigore visto che Ferrante spinge in area torbidone. Sul dischetto si presenta lo stesso torbidone che inzacca. La reazione del Giulianova non c'è e sono ancora i locali a rendersi pericolosi. Al diciannovesimo uscita a vuoto di Proietti. La palla è preda di Giordano che mette in mezzo per Terriaca ma è bravo il difensore sbaraglia a evitare il tiro dell'attaccante. Il raddoppio della Miternina arriva al trentasettesimo. Azione creata da Terriaca e Gizzi con il difensore che inzacca l'incolpevole Proietti. Nella ripresa al secondo Proietti deve intervenire per parare il colpo di testa di Torbidone. Dopo cinque minuti Di Paolo fa la barba alla traversa da trenta metri. Al tredicesimo l'unico tiro in porta del Giulianova con Pellecchia. Al ventottesimo Terriaca con un pallonetto prova a eludere l'uscita di Proietti ma la palla va fuori. Al trentaquattresimo arriva la terza rete dei padroni di casa. Terriaca mette in mezzo per Torbidone che di piatto realizza la sua doppietta. Nel finale al quarantesimo la Miternina tutta sbilanciata in avanti subisce una ripartenza del Giulianova con Pantarotto costretto al fallo e viene poi espulso. Visto che la Miternina ha già effettuato le tre sostituzioni in porta Vallennart. Senza correre pericoli però fino al fischio finale. Era uno sconto di diretti importante. Giocavamo in casa e ci eravamo proprio riproposti in settimana di dare il massimo per ottenere i tre punti. E così è stato. Abbiamo avuto dei problemi in settimana, degli acciacchi, delle influenze, squalificati. Anche oggi un paio di ragazzi hanno giocato con l'infiltrazione quindi non eravamo neanche al meglio. Invece poi sul campo si sono visti proprio 11 giocatori che hanno dato l'anima come sempre con la massima attenzione, con la massima determinazione volevano a tutti i costi vincere questa partita e penso che l'hanno pinta veritatamente perché oltre ai tre gol abbiamo creato tantissime altre palle gol. Bella partita della Miternina. Invece Giulianova come è riapparso? Io non guardo in casa ad altri. Quello che rimarco è ancora la grande prestazione dei miei ragazzi che oggi hanno concesso quasi niente al Giulianova e hanno creato tantissimo. Poi il Giulianova sono cose di spogliatoio che deve valutare al nato di loro. Io parlo della mia squadra. Quindi oggi avete fatto un bel passo in avanti verso l'obiettivo pre-auto? Certo, abbiamo fatto un'importante vittoria come ho detto poc'anzi però dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Ci attendono altri sconti diretti da fare in casa dove dovremmo ripetere queste ultime prestazioni che abbiamo fatte sia oggi che col Matelica due domeniche fa. Se giochiamo con questa intensità, con questa attenzione, se riusciamo a essere sempre vivi nell'arco dei 90 minuti sicuramente porteremo a casa delle buone prestazioni e degli ottimi risultati.